Il Luna Park! Da questa parte per il Luna Park! Guardate, il polpo piagnucolante! Ehi! Attenzione ai pupazzi di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Benvenuti sul lago dei pupazzi di neve! Fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante! È una festa invernale e i pupazzi di neve sui pattini vanno! Si stanno divertendo, ma vi urteranno e ad aspettare vi costringeranno! Per oltrepassare i pupazzi di neve scontrosi e non scivolare, piccoli passetti prudenti con i piedi allargati dovrete fare!